Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online A cura di Giulio Gaudiano Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Sempre più persone a questo mondo vanno alla ricerca di telefoni, cellulare, cosiddetti non smartphone Sono chiamati dagli amici Dumbphone, proprio in opposizione all'idea di uno smartphone che ti manda le email Ti permette di navigare sul web, poi ci sono le applicazioni, ci navighi con il navigatore GPS Tra un po' ti fa pure il caffè questo smartphone e invece ha preso una nuova vita Una generazione di telefoni completamente fessacchiottiche, semplicemente telefonano Tiè, al massimo mandano gli sms Allora, visto che di questi telefoni ne stanno nascendo come funghi, ce n'è per tutti i gusti Da quelli minimalisti nel design che sembrano venuti direttamente dal futuro Con funzioni proprio che fanno una cosa sola, come il Light Phone O il Light Phone 2 che ne fa un qualcosina di più Fino a quei telefoni che sembrano praticamente delle calcolatrici, con i tasti in rilievo Che sembrano quelli dei bambini, dici ma questo l'ho regalato al mio cuginetto di 5 anni O è un vero telefono, come il Punkt Bene, la domanda è questa Dietro a questi telefoni ci sono persone che stanno fuori di testa Che stanno facendo un passo indietro Oppure dietro questo trend globale Che è seguito da minimalisti, uomini di business, artisti, intellettuali Anche persone comuni che semplicemente hanno deciso di sottrarsi alla dipendenza dello smartphone C'è qualcosa di più che dobbiamo scoprire E quale miglior modo di scoprirlo se non intervistando una persona che ha un Dump Phone Che utilizza uno di questi telefoni fessacchiotti Niente po' po' di meno che un filosofo esecutivo, Raffaele Tovazzi Mio compagno di Mastermind e curiosissimo sperimentatore Sperimentatore di tecnologie Per capire dove le tecnologie possono realmente portare valore al pensiero umano e all'innovazione E allora scopriremo da Raffaele come funzionano questi telefoni Che effetti hanno sulla nostra vita quotidiana Ma prima di entrare nel vivo voglio ricordarti che StrategiaDigitale.info è il nostro punto di ritrovo online Se è la prima volta che ascolti questo podcast Bene, ci devi assolutamente passare per capire chi sono sti pazzi Che vogliono utilizzare il digital in modo consapevole per fare business E se non è la prima volta che ascolti questo podcast Se sei un'abitua e magari ci devi andare Per lasciare una recensione al podcast Per diventare finanziatore O ancora per consigliarlo a uno dei tuoi amici In cerca di una strategia digitale Io ti aspetto lì su StrategiaDigitale.info E nel frattempo, bando alle ciance È arrivato il momento di scoprire Dalle parole di Raffaele Tovazzi Che cos'è e a cosa serve un Dump Phone Siamo circondati da persone che cercano di rendersi più smart Rendere più smart se stessi Rendere più smart le cose che gli stanno intorno Allora abbiamo lo smart assistant Gli oggetti smart Tra un po' sarà smart pure il tostapane Controllabile tramite indirizzo IP Dallo smartphone È tutto smart Ma c'è qualcuno a questo mondo Che fa invece il percorso contrario Cioè abbandona lo smart E va nella direzione del quasi analogico Questo qualcuno è Raffaele Tovazzi Raffaele ciao ben trovato Ben trovato a te E benvenuti ai tuoi ascoltatori Raffaele diciamo per chi non ti conosce Chi sei Noi ci conosciamo ormai da tanto Sei più volte intervenuto In modo da farti conoscere Dalla community di strategia digitale Ma uno si potrebbe domandare Ma chi è sto pazzo? Che cosa fai tu nella vita? Io nella vita penso Penso e vengo pagato per pensare Infatti di lavoro faccio il filosofo E la mia routine è a contatto con i miei clienti Attraverso il digital Laddove è funzionale Attraverso il telefono Che è un po' come il telefono Che ha Batman È presente nella vecchia serie televisiva Che Batman aveva quel telefono rosso Con cui comunicava col sindaco di Gotham City Quando Gotham City ha un problema Esatto la linea diretta O vuole risolvere una questione O vuole qualcosa da Batman Chiama quel numero di telefono E Batman risponde Ecco più o meno funziona così la mia vita Solo che a me non chiedono di salvare Gotham Ma mi chiedono idee Quindi hai un'idea per Hai un'idea per un nuovo prodotto Hai un'idea per una campagna di comunicazione Mi dai un'idea per un evento E quindi in maniera molto reattiva Devo in pochissimi secondi Tirare fuori idee innovative Per lanciare prodotti O servizi O eventi per conto dei miei clienti E questa è un po' una chiave Per entrare dentro questa scelta che hai fatto Dentro la scelta del passare dallo smartphone al Dampphone Tu sei un vero e proprio umanista digitale Possiamo proprio dirlo E nel momento in cui il tuo lavoro è dare delle idee Immagino sia importantissimo di stare focalizzato Ma andiamo per gradi Che cos'è questo oggetto Che ti ho visto nelle mani Per cui ho deciso di chiamarti Per raccontarlo alla community di strategia digitale È un telefono? Apparentemente è una calcolatrice E neanche tanto bella E quindi questo è già il primo vantaggio dei Dampphone Se tu te lo dimentichi in macchina per esempio Mai ad uno verrebbe in mente Di rompere il vetro E rubarti il telefono Perché mai uno Si esporrebbe a questo rischio Per rubare una calcolatrice Anche se ti entra in macchina e dici Vabbè la calcolatrice lascio qua Che me ne frega Tanto c'ho lo smartphone Così ragiona il ladro E quindi questo è il primo vantaggio Il Dampphone che cos'è? È una sorta di neologismo Creato in contrapposizione agli smartphone Prima tu dicevi Tutti quanti vogliamo diventare più smart Tutti quanti abbiamo device sempre più smart Ecco Io dissento questa rappresentazione Perché noi vogliamo diventare più smart Ma la tecnologia ci sta rendendo sempre più stupidi Quindi sempre più dumb Dumb in inglese significa stupido, sciocco Mentre smart significa intelligente Infatti coloro che seguono questa filosofia digitale Dicono che le persone smart hanno telefoni dumb Quindi smart people have dumb phones And dumb people have smart phones Quindi le persone intelligenti hanno telefoni stupidi Le persone stupidi hanno telefoni intelligenti Perché darei questa competenza Questa skill ad un supporto esterno Visto che loro non riescono più a coltivare il pensiero Che emerge non solo rara Ma soprattutto ti chiede un forte tributo Ti chiede di fare fatica Perché memorizzare un concetto Cercare nei cassetti della memoria Un nome di cui hai bisogno Che ti ha dimenticato Richiede fatica Richiede allenamento Mentre se tu accendi un telefonino Di fatto c'è un repository di tutta la conoscenza disponibile nel mondo Ecco il problema qui è di natura strettamente platonica Non so se ti ricordi il dialogo Uno dei più bei dialoghi platonici Che è il Fedro A un certo punto Platone per bocca di Socrate Si scaglia contro i farmaci della memoria Lui lo chiama il farmacon E al tempo il telefonino era simbolicamente rappresentato dal libro E Platone si scaglia contro il libro perché dice Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un libro Per ricordare le informazioni Per ripassare dei versi Non alleniamo più la memoria Questo ci renderà sempre più stupidi Sempre più sciocchi Ecco farmacon in greco Significa sia farmaco Quindi qualcosa che risolve un problema Una patologia come l'essere smemorati Ma significa anche veleno Infatti Socrate viene giustiziato attraverso il farmacon Che è la cicuta E significa a tutti gli effetti veleno Noi stiamo avvelenando la nostra memoria E ti faccio un esempio molto pratico L'hai visto Bird Box con Sandra Bullock su Netflix? No non ancora Ok In buona sostanza la gente comincia ad impazzire fino a suicidarsi E non si sa qual è la causa di questa patologia mentale E si scopre che attraverso delle creature che aleggiano là fuori Fuori dalle case E quando tu guardi il cielo Cominci ad impazzire fino a suicidarti Quindi la gente ha cominciato per girare per il mondo A fasciarsi gli occhi Per poter sopravvivere Quindi in un certo senso diventa Omero Che era cieco Per ripercorrere quel cammino narrativo Che lo porta alla tradizione orale Vabbè adesso non ti voglio vendere Bird Box Ma è solo un pretesto per farti un esempio Sulla Damp Phone Vabbè io non conoscevo Bird Box Poi ho scoperto che è anche una tendenza diventata una moda negli Stati Uniti Quella di girare per le strade con gli occhi fasciati Come fanno i protagonisti di questo film Me l'ha parlato un mio amico mentre uscivamo dalla metro in St. Paul Per andare a visitare per l'ennesima volta quest'anno La Tate Modern Gallery E mi fa L'hai visto Bird Box? E io dico No non l'ho visto Bird Box È con Sandra Bullock E quell'altro Quell'altro Dio com'è che si chiama Quello che Quello che Ho detto fermati Micio si chiama il mio amico Viene da Roma peraltro Micio mettili al telefono Allena la memoria Tu lo sai Perché sai di saperlo Perché ricordi aver letto quel nome Di sapere il nome dell'attore Nel momento in cui Usi questa Fast track del telefonino Non alleni la tua memoria E diventerai sempre più rincoglionito Con l'andare degli anni E anzi ti sei portato parecchio avanti Secondo me Allena la memoria Allora lui mette via il telefono E fa Aspetta Allora il film era Essere John Malkovich Voilà John Malkovich Qual è il punto? Il punto è che lui Distinto Ha usato la via facile E la via facile Non corrisponde sempre Alla via utile E a forza di imboccare Queste vie facili Noi ci rendiamo Sempre più sciocchi Perché Deleghiamo la capacità Di memorizzare Appunto al telefonino E visto che Io e te abbiamo Un background di tipo internazionale Siamo stati entrambi Expat La stessa identica cosa Inibisce la capacità Di imparare una lingua straniera Ti faccio un esempio Molto pratico Un giorno mia moglie Mi manda A fare la spesa Mi chiama E mi dice Mi prendi Gli anacardi E dico Sì certo Metto via Il telefono E dico Come cacchio Si dice Anacardo In inglese E allora Lì hai due strade La prima è Prendere fuori Il telefonino E quindi cercare Google Translator Come si dice Anacardo Ti dice Cashew Benissimo Vai Dici dove sono i cashew Li prendi Arrivi la cassa E esci Il tempo che sei uscito Già quel vocabolo L'hai completamente Dimenticato Perché un vocabolo Dura nella tua memoria In maniera proporzionale Rispetto allo sforzo Che hai fatto Per accedere a quel vocabolo Per imparare quel vocabolo Se invece ti esponi A fare una figuraccia Una figura di merda Della serie Ah nel presente Io cerco Tipo Peanuts But larger than a nut E cominci a usare Delle perifragi Per spiegare Quello che vuoi Vieni ritenuto Probabilmente uno sciocco Dal Dal tipo Del supermercato Ma quando lui ti dice Ah Pirla Cashew Tu dici Voilà Cashew Ti rimane per sempre Ti rimane per sempre Sì sì Mi ricorda La mia professoressa Di latino e greco La quale Nel momento in cui Facciamo delle versioni Magari avevamo bisogno Di tradurre al volo Un vocabolo Quindi noi La guardavamo No Come dire Professoressa Ci dica come cosa Come si traduce E lei diceva Usate il vocabolario Avete il vocabolario Usate il vocabolario Il rocci Mamma mia il rocci Quanto pesava E quanto era fastidioso Girare queste pagine Cercare i vocaboli Ma da una parte Diventevamo sempre più veloci Ad utilizzare il vocabolario Diventava in qualche modo Il nostro migliore amico Dall'altra parte Ce lo ricordavamo Molto più a lungo Quindi questa difficoltà iniziale Superando la pigrizia In realtà portava Un doppio beneficio In termini di skill E in termini di Bagaglio personale Di capacità di ricordare Quel vocabolo Ma devo dire che Alla fine È una tendenza Un po' Ci sono varie tendenze Che sono diventate Dei trend globali Che guardano Con sempre più diffidenza Alla tecnologia Per esempio C'è il discorso Del minimalismo Il minimalismo Che rifiuta L'estrema abbondanza Portata Dalle varie Rivoluzioni industriali Per cui abbiamo tutto Tutto di tutto E per assurdo Nelle case dei poveri Non c'entra più Uno spillo Nelle case dei ricchi Ci sono grandi spazi Non solo perché Hanno una metratura Maggiore Ma perché Tendono a selezionare Degli oggetti Di estrema qualità Di estremo senso Perché hanno Meno bisogno Di riempire La pancia Del possesso Ma hanno più Bisogno Di circondarsi Degli oggetti Belli Pieni di senso Per loro E questa Altra tendenza Che ci hai Introdotto tu Questa scelta Di passare Dal Dagli oggetti smart Che ci rendono Sciocchini Ci rendono dumb Agli oggetti Dumb Che ci rendono Più intelligenti Ma non solo Più intelligenti Direi anche Più liberi Guardavo Proprio ieri L'abbiamo commentato Sul Sulla chat Della digital business school Un video Che forse Molti di noi Hanno incrociato Che cosa c'è Dietro un pacco Amazon E viene descritto In questo servizio televisivo Della setta E riportato su youtube Il trattamento disumano Che Amazon Riserva I suoi dipendenti Ora Senza entrare nel merito Però una cosa Che mi ha colpito È che Ogni Diciamo Box speaker Un dipendente Amazon Che lavora Per prendere Le scatole E spostarle Da un posto All'altro Ha una specie Di smartphone Dove c'è scritto Esattamente Quale oggetto Deve prendere Quale oggetto Deve lasciare Dove deve spostare E c'è un timer Che cronometra La velocità Di questo spostamento Addirittura Parlano di Avere il passo Amazon Che vuol dire Avere un passo Molto lungo Passi lunghi E ben distesi Un passo veloce Per spostarsi Da una scaffalatura All'altra Bene Questa cosa Questo fatto Che c'è una macchina Che Governa l'uomo Mi fa pensare Da una parte Che Beh ragazzi Concentriamoci Sui lavori Che le macchine Non possono fare Perché In questo caso L'essere umano Poverino È trattato Esattamente come una macchina Né più né meno Solamente ci costa di meno Pagare un essere umano Che obbedisca a uno schermo Piuttosto che programmare Una macchina Che sappia poi Non inciampare Quando trova qualcosa Per terra E vabbè Ma dall'altra parte Mi ha fatto pensare Come ci siamo Abituati A fare Quello che ci dicono Le macchine Perché dipendiamo Dalle macchine Io pure ero Un estimatore Dello stradario Del tutto città Mi ricordo Mi muovevo Appena patentato In ogni dove Qui a Roma Con il tutto città Dimmi in che via sei E io arrivo E oggi Quando ti manca Il navigatore Quando ti manca Lo smartphone L'altro giorno Sono entrato In ambasciata australiana Mi hanno fatto Lasciare lo smartphone C'è stato un momento Di panico Io e mia moglie Ci siamo guardati E abbiamo detto Oddio Ma ci abbiamo tutto Perché poi Quando siamo dentro Se non abbiamo lo smartphone Non possiamo recuperare Documenti Informazioni Dipendiamo Da questo dispositivo Ora Facciamo un passetto avanti Perché una cosa È l'utilità Non c'è dubbio Che sia utile Utilizzare Un dispositivo smart E E Dall'altra parte Che sia una difficoltà Che però può essere virtuosa Abbiamo detto Non è detto Che la strada più semplice Sia veramente Quella più utile Proviamo a fare Un passetto Più in là Secondo te Questa Dipendenza Dai dispositivi Ha solo un effetto Sulle nostre abitudini Però uno può dire Ah che me frega Io Lo lascio stare Il vocabolario Ormai Posso cercarlo Sullo smartphone E ce l'avrò Sempre in futuro Oppure c'è qualcosa Di più profondo Che ha a che fare Con il controllo Della mente Con il controllo Della popolazione Con renderci dipendenti Ma anche obbedienti A queste tecnologie Sì E siamo stati Ben indottrinati Dalla scuola Se mi consenti Questa Provocazione C'è stato C'è stato Un grande Ricercatore Il più grande Consulente A livello mondiale In termini Di creatività Che si chiama Chick Thompson Che ha mappato La creatività Nell'arco Della vita Di un individuo E scopre E scopre In buona sostanza Che a cinque anni Uno ha il picco Di creatività È un genio Del pensiero Divergente Perché riesce a vedere La medesima realtà Da angolature Talmente diverse Perché non prigioniero Di una forma Di pensiero Precostituita Che deve essere Un genio In grado Di innovare E nell'impresa E in qualsiasi ambito Molto più Del più strutturato Dei manager Poi vediamo Che a otto anni Età tipicamente In cui si va A scuola Avviene un crollo Della creatività Che da quel momento In poi Continua a scendere Fino all'età Di 42 44 anni In cui si registra Il più basso livello Di creatività Nella vita Di un individuo Salvo poi Risalire Questo indice Al momento Della pensione In cui uno Esce Da questi Dogmi sociali Del lavoro Così come ce l'hanno Insegnato Per quasi Tutta la vita E ritorna In contatto Con le proprie passioni Ritorna in contatto Con questa concezione Estetica Della vita Che lo fa focalizzare Solamente su quel Qui ed ora In cui abita La sua passione In cui alberga L'arte La musica Le passioni Più autentiche Anche in termini Artigianali E ritorna In possesso Della propria vita Ora La chiave non è Aspettare il tempo Della pensione Per tornare a fare Quello per cui Ti fa battere Il cuore Anzi Gli strumenti Del digital E tu ne sei Testimone Più autentico In Italia Ci insegna Come ciascuno Può cominciare A qualsiasi età A vivere Della propria passione Non solo Farne il proprio lavoro Ma addirittura Riuscire a prosperare Attraverso la propria passione E ritornare In possesso Del proprio tempo E' come se ci fosse Una connessione Quasi tra la disobbedienza E la creatività Ma non la disobbedienza Stupida Perché tanto Devo disobbedire Perché anche Ci può essere Schiavi E obbedienti Anche alla disobbedienza Ma una disobbedienza Creativa Una disobbedienza Che ti fa Mettere In Discussione Lo status quo Ti fa mettere In discussione L'istruzione Che ti viene data Ti fa mettere In discussione La rotaia Che ti hanno steso Davanti Perché tu vada Sempre dritto E che però Uscendo fuori Da quel sentiero Ti porta a scoprire Cose assolutamente nuove Ed aprirti la mente Concordo Peraltro una delle domande Che mi fanno più spesso Nelle interviste È Come si fa A fare innovazione Perché fare innovazione E' un'arte E' un'arte di vita E' una filosofia di vita Ora io ricordo sempre Che l'arte Genera prototipi Di pensiero Che cos'è un prototipo E' la prima manifestazione Sensibile di un'idea Poi quando quell'idea Quel prototipo Viene accettata Diventa mainstream E diventa uno stereotipo Su cui si fonda Tutta l'impresa L'innovazione Eccetera eccetera Ora fare innovazione Sembra una cosa Così complessa Essere creativi Sembra una cosa così rara In verità È frutto del metodo È una cosa molto semplice Che si inserisce perfettamente In questa logica In questa dinamica Dei dumb phone Per fare innovazione È sufficiente Studiare lo status quo Studiare quella Che è la filosofia Del tutorial Che comanda il nostro tempo Studiare tutto quello Che dicono gli esperti Di un settore Presentando un consiglio Come un dogma Inconfutabile E fare l'esatto opposto Quando tu studi Il tuo mercato E fai qualcosa Di opposto Rispetto a quello Che è il pensiero Prevalente di un settore Hai la garanzia assoluta Di fare innovazione Il più delle volte Si traduce con un niente di fatto Il più delle volte Ti trovi a navigare Per sentieri In totale solitudine Ma talvolta Azzecchi Quel filamento aureo Che ti porta A grandi prosperità Ora qua mi piace citare Nassim Taleb E il suo concetto Di antifragile L'antifragile Non è colui Che non commette errori Non è colui Che obbedisce A quella che è La liturgia Del tutorial Del nostro tempo Essendo Quasi uno strumento Nelle mani Del sistema prevalente Che urla a gran voce Attraverso i nostri Smartphone Ma l'antifragile È colui Che sbaglia Frequentemente Imparando Dei propri errori E laddove intuisce Che un filone Di pensiero È virtuoso Riesce a fare All in Per creare prosperità Per se stesso Ed essere Il game changer Di un settore Come si dice In Inghilterra O nella cultura Anglosassola Quindi colui Che arriva sul mercato E destruttura Tutti gli assunti Del pensiero prevalente Diventando Un nuovo Status quo Nel proprio settore Ecco L'innovazione È studiare 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 Non fare cose A cavolo O muoversi In maniera Scellerata Nel fare cose Perché ti vengono Ecco Generalmente Il creativo Viene percepito Come genio E sregolatezza No no Genio E regolatezza È il creativo Perché studia 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 Intuisce Una falla Nel sistema E crea Un'alternativa Rispetto Al pensiero Prevalente Laddove Questa Trasgressione Riesce A soddisfare Il bisogno Percepito Di più Ecco Che si creano Le grandi innovazioni Nella storia Perché ogni Grande innovatore Non è stato Un obbediente Ma è stato Sempre un Pensatore Radicale Che ha Screditato Quelli che erano Gli assunti Che ci venivano Passati Pensiamo a Steve Jobs Pensiamo a Tantissimi altri Sono dei trasgressori Rispetto a Quello che era Il pensiero Accettato Del proprio tempo E quindi Io credo Per essere creativi Occorre il metodo Dello studio E il coraggio Di trasgredire Quello che è Il dogma Di un settore E questa è quasi È la mentalità hacker Alla fine Cioè Dove trovo una falla Nel sistema Ho il dovere Morale Di infilarmi In quella falla E vedere Cosa succede Non solo Per fare il furbo Anzi Non per fare il furbo Non è neanche Una mentalità Da freerider Ma Da Colui che vuole Portare un vantaggio Anche alla collettività Vado Mi ficco In quel buco Vedo cosa c'è In fondo E porto Magari in fondo Ci sono delle altre persone Gli altri esseri umani E li posso portare Alla luce Come Un moderno Prometeo Per Riuscire a fargli Vedere le cose Sotto un punto di vista Diverso Una disobbedienza Creativa Che è Una rivendicazione Della libertà di scelta Alla fine Una libertà di scelta Per cui Non c'è nulla Che è buono O cattivo Non è che lo smartphone È cattivo Allora Difida dallo smartphone Lo smartphone È buono Nella misura In cui Continua A tutelare La mia libertà di scelta In cui io posso Continuare ad esercitare La libertà di scelta Se non mi rende schiavo Allora Riesco a utilizzarlo Altrimenti Se sono asservito A questa tecnologia Bene Persino Il frullatore Mi ricordo Mio padre Una volta Un grandissimo Amante Dell'acqua minerale Una volta Si presentò A tavola Senza La sua bottiglia La sua bottiglia Di acqua minerale Gli dissi Papà Che fai E lui mi disse Guarda Giulio Ho visto Che ieri Non avevo L'acqua minerale E per un momento Ho sofferto Di questo E allora Ho deciso Di non bere più Acqua minerale Perché Perché Se mi rende schiavo Non è buono Cioè mi piace Mi dà piacere Ma mi rende schiavo Mi rende le cose semplici Ma mi rende schiavo Allora Preferisco la libertà Anche sottoposta A una piccola sofferenza Piuttosto che Rimanere schiavo Di qualcosa Che mi agevola Ma Per la quale Non ho più il controllo Ora Io per esempio Ho fatto la stessa cosa Con la sveglia L'ho raccontato molte volte Su strategia digitale Ho scelto Di lasciare lo smartphone In cucina Dall'altra parte della casa La sera Quando vado a letto Lo metto in carica Ciao cari Ci vediamo domani E mi metto A letto tranquillo Con una mia sveglietta Classica dell'IKEA Che fa il Tirititi Tirititi Fastidiosissimo Che ti sveglia E Non ho più bisogno Di avere lo smartphone vicino E là mi accorgo Di quanti minuti in più Passavo al giorno Sullo smartphone Semplicemente Perché impostando la sveglia Volevo ascoltare un messaggio E il messaggio Che mi arrivava tramite la notifica Mi stimolava A livello cognitivo E quindi poi Non riuscivo a dormire Allora non riuscivo a dormire E volevo leggere E allora volevo leggere E passavo altro tempo E lì domani E ero ancora più stanco Quindi Riusciamo veramente Attraverso piccole liberazioni A coltivare la nostra libertà Ma raccontaci un attimo Come funziona questo telefono E come te lo sei procurato Allora innanzitutto Permettimi una Una piccola riflessione Slash citazione Intorno alla libertà Che riguarda il tuo La tua riflessione Di poco fa C'è un poeta francese Che dice che La libertà fugge sempre Dall'accampamento Del vincitore Viviamo in un tempo In cui A vincere Sono le macchine A vincere È il digital A vincere È lo smartphone Ecco che Nel trasgredire Questa Vittoria Questo pensiero Prevalente Noi rivendichiamo La nostra libertà Libertà di scegliere Un'alternativa Rispetto a quello Che tutti danno Per scontato Anche esponendosi Come nel mio caso A critiche di Familiari e amici Perché ti puoi immaginare Quando tu fai innovazione O utilizzi uno strumento Che viene percepito Come ridicolo Non accettato Non diffuso Anche nel piccolo Ecosistema Della tua famiglia Delle tue frequentazioni Vieni etichettato Come quello strano E a me è capitato Mille volte Nella vita C'è stato un mio amico Mi ha detto che ho un telefono Da spacciatore Ora io non ho mai comprato droga Non so che telefoni abbiano Gli spacciatori Però dice che questo qua È un telefono da spacciatore Vengo da un evento A Milano E c'era un Amico di Napoli Mi ha detto Ah da noi quello lì Ce l'hanno i camorristi Dico come i camorristi Quindi ho il telefono da spacciatore E il telefono da camorrista Come funziona Rispondendo alla tua domanda Questo Questo telefono Allora innanzitutto Che cosa sono i dump phone Sono dei telefoni Semplificati E che Sul 90% Si basano Su due funzioni Telefonare E mandare sms Punto In una prima battuta Io mi ero appassionato a questo Perché ho visto Alcuni artisti Alcuni personaggi Molto potenti Che avevano sposato Questa corrente minimalista Ispirati appunto Dal docufilm De minimalism Per esempio Rihanna Quando ha fatto serata Qui a Londra È stata fotografata Con un flip phone I flip phone Sono quelli a conchiglia Che si aprono Che qui da Tesco Vendono a 25 pound Per farci capire Esce da un locale Con il flip phone Quindi non con uno smartphone Da 1300 pound Ma con un telefonino Da 25 Un altro testimonio È Bill de Blasio Il sindaco Di New York Che ha un Motorola V3 Quelli Ti ricorda Quello piatto Che sta nel taschino Della giacca Anche lui Anche lui Un dumb phone Ora mi sono appassato E dico Che artisti Personaggi così potenti Si stanno sposando Questa corrente La prima risposta È stata Per via di una privacy Che questi telefonini Consentono Non è male la privacy Soprattutto perché Ci rendiamo conto Di questo controllo vocale In questo movimento Che fa capo Al voice first Che punta a mappare Le preferenze E gli interessi Degli utilizzatori Attraverso i loro Dialoghi Di ogni giorno Mentre non utilizzano Il telefono Quindi per via Della privacy Per evitare Hackeraggi di foto Che vanno poi Sui newspaper Questi VIP Tendono a sposare Questa semplificazione Di vita Per garantire La propria privacy Ho detto Interessante Non è male Ora visto che La Nokia Ha rilanciato Il 3310 Ha rilanciato L'8810 A banana Che è stato lanciato Nel 99 Dal film Matrix Ho detto Ma perché Non mi prendo uno così Sarà bello sperimentare Un po' come funziona La cosa Dico questo perché La scelta più integralista Era senz'altro Divergente Ma non necessariamente Funzionale Ti faccio un esempio Io vivo Comunque In viaggio Spesso viaggio per lavoro E comunque È innegabile Che un hotspot Per me Può essere d'aiuto Se devo Per esempio Mandare un progetto Velocemente Mentre mi trovo all'aeroporto O mentre mi trovo Su un taxi E quindi Un hotspot Mi sembrava Una funzione interessante Poi però Mi ricordo anche Che i vecchi flip phone Hanno la tecnologia 2G Che per esempio Qui in Inghilterra Sta scomparendo Quindi ti rischi Di trovare un telefono Che non ti permette Neanche di fare Una delle due funzioni Fondamentali Che è quella di telefonare Allora mi sono interessato A questo movimento Che fa capo alla Nokia Col 3310 8810 Salve poi scoprire Che questi Questi telefonini Questi dump phone Hanno un software Che è KaiOS Che conosci tu? No Non ho mai sentito È un sistema operativo Indiano Che ovviamente Per i numeri Che fa l'India È riuscito A balzare Gli onori della cronaca Avendo un'esposizione Enorme E quindi Montavano Il software KaiOS E in una prima battuta La cosa funzionava Ti dava anche una piccola connettività Se proprio Non puoi fare a meno Di collegarti a un browser Addirittura a Facebook Che io non utilizzo Però per chi è Lo utilizza magari per lavoro Deve controllare le notifiche Poteva essere una cosa utile E mi sembrava Una scelta appropriata Non fosse che Google Per 280 milioni di dollari C'è comprata la KaiOS Quindi il sistema operativo Montato su Nokia E ha fatto una piccolissima modifica Che è Installare in maniera predefinita E non hackerabile Il Google Voice Come ricerca vocale Su tutti i telefonini E quindi Anche Affascinante questo Quindi Se hai comprato Il sistema operativo Hai imposto Che ci fosse Il controllo vocale Con controllo vocale Riesci a mappare Anche quel target audience Che sceglie di Uscire dal sistema Allora Da buon divergente Ho detto Ma non esiste Che faccio radical chic E comunque alimento Questa Questa grande fabbrica Di sottomissione Delle coscienze E ora ho fatto un po' di ricerche E ho identificato Due prodotti Sul mercato Uno Che ho acquistato In crowdfunding E si chiama Light Phone 2 Ed è americano Ed è grande Più o meno Come una carta di credito Letteralmente Sta nello slot Del portafoglio E' nero E bianco E uscirà Stando a A quanto annunciato Della piattaforma Di crowdfunding Intorno ad aprile Il problema è che Questo telefonino Si configura molto Come un second phone E non riesce In tutto per tutto A quanto pare A sostituire Il Le funzionalità Di 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 un telefono Cellulare Per l'utilità Che ne ho io L'altro è il Punct Scritto Punk Con il T finale Ed è un prodotto Svizzero Di un'azienda Di Lausanna Che punta Nella sua Filosofia Commerciale A creare un telefono Senza distrazioni Quindi è un telefono Obiettivamente Brutto Qualcuno direbbe Bruttissimo Perché sembra una calcolatrice Come ho detto In esordio Tutto Nero Con uno schermo Appunto In bianco nero Che ti permette Di telefonare Di mandare sms Ma ha una funzione Aggiuntiva Che per me È molto utile Ed è la funzione Hotspot Quindi riesci a scegliere Dal 2G Al 3G Al 4G Nella connessione Ma volendo Puoi attivare L'hotspot E quindi Non perdere Quella produttività A base Tablet O a base Computer Che ti permette Per esempio Di collegarti Alla rete Di navigare Se sei Fuori Location Di mandare Progetti E quindi Ho scelto Questo prodotto Perché Riesce a darmi Tutti i vantaggi Di un Dump phone Senza farmi pagare Lo scotto Di un isolamento Professionale Che nel mio caso Sarebbe Sarebbe la morte Molto interessante Quindi niente musica Niente social media Niente fotografie Mi confermi? Precisamente Non hai idea Di quanto cambi La tua vita Con questo tipo Di strumento Perché Cambi Lo strumento Cambi Il mondo intero Inteso come Il tuo mondo Assolutamente Infila alla posta E dici Che cacchio faccio Leggo la gazzetta Il corriere No Stai lì E guardi le persone Socializzi con le persone Io per esempio Amo parlare Con i tassisti Perché qui a Londra Mi insegnano delle espressioni Di Cockney English Queste Espressioni colorite Che neanche chi conosce L'inglese Conosce E quando dialoghi con loro Impari tante cose Se avessi un telefonino Probabilmente Mi guarderei Una Che ne so Ho un pezzo di una serie Su Netflix Navigherei Farei altro Invece sono lì E parlo con la gente E mi accorgo anche Di quante persone Stanno al telefono Quando stanno in mezzo All'altre persone Utilizzandolo Quasi come Un portale Per l'altrove Questo schermo nero Ti proietti in un altrove Che non è il qui ed ora Dove accade La magia della vita A chi consiglieresti Di provare a mettersi Se non altro in gioco Una cosa che mi è piaciuta Dell'applicazione Moment Che è un'applicazione Della quale ho parlato Pensata proprio Per un discorso Di minimalismo Digitale Di digital detox Una cosa che mi è piaciuta È che Moment Diceva Guarda Non devi fare Quello che ti dico io Prova a fare solo Una prova Per un giorno Prova per esempio A disattivare Tutte le notifiche Oppure a Individuare L'applicazione Che usi di più E disinstallarla E Nel sentire Il dolore fisico Che si prova Nel disinstallare L'applicazione Che utilizzi di più Che sembra assurdo Perché mi fa male Dovrei Disinstallarla E ristallarla Se ne ho bisogno La ristallo subito Devo stare Solo 24 ore Senza di lei Bene Hai proprio un effetto Fisico Senti che Ti pesa Come se stessi Non lo so Regalando un oggetto Che ti è caro Che te l'aveva regalato Tuo nonno Allora Quali sono gli effetti Su di te E a quali persone Consiglieresti Di fare una prova Rispetto all'utilizzo Di un dumb phone Allora Parto dalla seconda domanda Se per te va bene E lo consiglierei a tutti Soprattutto A coloro Che credono Di non avere Una dipendenza Dal proprio smartphone Perché Se tu hai avuto La fortuna O la sfortuna Di interagire Con dei tossicodipendenti O con gente Che ha problemi Di alcolismo Tutti quanti Dicono Di non avere Un problema E di riuscire A controllarlo Perfettamente Già ammettere E avere un problema È un passo quantico In termini di consapevolezza personale Mentre quando tu dici Ok Se pensi di poterla controllare Questa cosa Perché non ci rinunci E lì non hai alibi Capisci Quindi Io lo consiglio In primo luogo A tutti Ma in particolare A coloro che credono Di non avere Una dipendenza Da smartphone E io personalmente Amo le scelte Piuttosto radicali Anche se questo comporta Molto più dolore Di chi fa scelte Più ponderate E moderate E il consiglio che do È magari Non acquistarsi Necessariamente Un Punt MP02 Che è il modello Che possiedo In questo momento Ma tirar fuori Dai cassetti Un vecchio Dampphone Un Motorola V3 Un 3310 Vecchia serie Con l'adattatore Della sim Sperimentarlo Per un weekend Quando si chiude La settimana Il venerdì alle 18 E tipicamente Si rimanda La produttività A lunedì Dedicando tempo A se stesse La famiglia Nel sabato E nella domenica Ecco Per un sabato E una domenica Non dico Non connettersi Alla rete Ma nella propria Vita mobile Nell'uscire al parco A giocare a pallone Con le proprie figlie E i propri figli Nell'andare al pub Con gli amici Nell'uscire in pizzeria Lasciare a casa Il proprio smartphone E mettere questa schedina All'interno Di questi vecchi Telefonini Dimenticati Nei cassetti Delle case Nostre O dei nostri genitori E sperimentare Come cambia La vita All'interno Di questo weekend Particolare Io ho sperimentato Di avere Molti più ricordi Perché Quando non hai Nient'altro Che quello Che è stato A te Se hai una vita Bella Come credo Di averla io Contra distinta Dal più grande successo Che è la famiglia Ti rendi conto Che parli ancora di più Con i tuoi bambini Ti rendi conto Che in assenza Di intrattenimento E di anestetici Che il telefono Ti dà Ti fai portare Nel loro mondo Ti fai spiegare I loro interessi Ti fai spiegare I loro giochi Fossero anche Dei videogame Come Minecraft In cui c'è Una forte allegoria Del demiurgo Di Platone Che crea Il proprio mondo Attraverso i solidi Platonici Tu hai delle figlie Penso non giochino Minecraft Però No 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 In realtà Noi abbiamo scelto Di non metterle Assolutamente in contatto Con nessuna tecnologia Digitale Oh guarda Ed è incredibile Come A me mi colpisce Sempre Perché il dubbio Era poi Le facciamo Crescere Che non sanno Quale pulsante Premere A parte L'assoluta Scioltezza Con la quale Hackerano Alexa Che sta in casa E gli chiedono Addirittura Mi chiedono Di programmare Di creare Delle routine E capiscono Benissimo La logica Della programmazione Il Lift this Then that E poi Le vedi Quando c'è Un'amichetta Che ha Uno smartphone Un tablet Una qualsiasi Tecnologia Per le mani Le vedi Per niente Impacciate Assolutamente A loro agio Quindi Non giocano Ai videogiochi Perché non hanno Nessun dispositivo Con cui giocare Allora Per esempio Che giochino Con strumenti Digitali O che abbiano Del loro Interessi Con altri tipi Di costruzioni Di interazioni Farsi portare In quel mondo Interagire con loro Giocare assieme a loro E magari trarre Delle metafore Degli insegnamenti Da declinare Poi nel tuo lavoro A partire Da lunedì È un'esperienza Davvero Meravigliosa Che rende la vita Ancora più bella I ricordi Ancora più vividi Perché sei presente Nel momento In cui stai provando Quell'emozione Associata A quell'esperienza Aumenta La qualità Del tempo Aumenta La qualità Del sonno Aumenta La percezione Di salute Ti do un dato Senza voler Creare Allarmismi Di sorta Perché non sono un medico E non ho titolo Per parlare Di queste tematiche Una cosa Che un amico medico Mi ha segnalato E su cui ancora Non c'è Della letteratura medica Ma su cui dovremmo Cominciare a riflettere È che sono aumentati Esponenzialmente I casi Di infertilità Maschile Negli under 20 Negli ultimi Dieci anni E sono aumentati Esponenzialmente I casi di varicocele Tumore Testicoli Il 90% Di casi Associati Al testicolo In cui L'utilizzatore Ha l'abitudine Di tenere lo smartphone Ora Non voglio creare Allarmismi Ma c'è un dato Che secondo me Impatterà Sulla nostra salute Nel giro Di pochi anni Perché Gli effetti E la sovraspolizzazione Di questa tecnologia Non sono ancora Manifestati del tutto Io mi ricordo Quando mio padre Mi diceva Quando il nonno Quindi suo padre Mi chiedeva Di aiutarlo A scaricare il camion Mi regalava Due sigarette E regalavi Ad un bambino Di 8 anni Le sigarette Perché non si sapeva Io vengo Da un paese Molto remoto Molto isolato E magari c'era Ignoranta Degli effetti Del fumo Già negli anni 40-50 E cioè Non si sapeva Che facevano così male Pensa che veniva Regalata ai bambini Ecco La stessa cosa Noi facciamo Nel nostro tempo Regalando O prestando Il tablet Esponendo Il loro fragile E tenero corpo A una tecnologia Che può essere Potenzialmente devastante E quei effetti Ancora non sono Manifestati Quindi Io Nel breve termine Che cosa vedo Vedo migliorata La qualità del sonno Vedo aumentata La produttività Vedo aumentato Il livello di energia Vedo aumentata La velocità reattiva Con cui riesco A creare campagne Di comunicazione E a rispondere In maniera rapidissima Ai clienti Che mi chiedono Quindi è aumentata La mia produttività E possono aumentare Di pari passo I miei business Le capacità di gestire Progetti sempre più complessi E non posso Non identificare In questa Semplificazione Moderata E ponderata A livello tecnologico Una causa virtuosa Se per caso Ti fosse venuta Voglia Di comprare Uno di questi telefoni Attenzione Ecco faccio un disclaimer Io ho messo I link Nelle note Dell'episodio Però attenzione Perché c'è Una fortissima Possibilità Che una volta Visti il link Tu non possa fare A meno di comprare Uno di questi Dunphone Io personalmente Mi sto leggando Al palo della nave All'albero della nave Come Ulisse Per non acquistare Il lightphone 2 Che è di una bellezza Ma di una bellezza Che fa venire Le lacrime agli occhi Quanto è bello E quindi Trovi tutti i link Nelle note dell'episodio Anche un link Per scoprire meglio Chi è Raffaele E scoprire il suo lavoro E voglio ringraziare Di cuore Tutti i finanziatori Di strategia digitale Tra questi c'è anche Raffaele Che sono persone Dalla più varia estrazione Lui è un filosofo Ci sono manager Ci sono dipendenti Ci sono professionisti Imprenditori Ci sono persone Che hanno in comune Il fatto di credere Credere Che è possibile Insieme Creare un digital Che non sia minaccioso Che non sia da temere Che non sia da controllare Un digital Che ci faccia crescere Insieme Che ci faccia In un certo senso Essere Ancor più uomini Ci aiuti Ci semplifichi la vita Non ci faccia perdere tempo Dietro alle notifiche Ma se lo sappiamo Utilizzare in maniera Consapevole Potenzi le nostre capacità Per portarci a una rinascita Un rinascimento Un umanissimo Digitale Bene Grazie di cuore A tutti i produttori Di strategia digitale Grazie di cuore Outra Bertolone Coautrice del podcast Al nostro fonico Costanza Mineo E a Radiospeaker.it Per il sound design Ragazzi Grazie mille E alla prossima Strategia digitale Idee, novità e consigli Per imprenditori E professionisti Appassionati di web marketing E business online E business online A cura Di Giulio Gaudiano